Si è svolto in seminario il tradizionale evento dedicato al volontariato sociale promosso dall'ODV Siamo Noi, con una novità, l'assegnazione di una borsa di studio intitolata il compianto vicepresidente dell'associazione Roberto Balsarini. Il convegno si è aperto con il benvenuto del presidente Claudio Bodini che ha ricordato le attività sul territorio. È un'associazione di volontari che fanno relazione d'aiuto, accoglienza ed ascolto in diverse strutture. Siamo presenti al pronto soccorso da dieci anni, siamo presenti in due case di riposo, Cremono Solidale e Castelverde e siamo presenti anche negli avvacinali. È estremamente importante umanizzare la cura, è estremamente importante avere persone che si relazionano con i malati e i parenti dei malati. Poi si sono alternate diverse testimonianze, fra cui Don Luca Montini, autore del libro Con un piede in paradiso, che ha raccontato l'esperienza di rinascita vissuta dopo un grave incidente in Kenya. Ero un missionario in Africa, dove gestivo un ospedale. Questo incidente è molto grave, hanno seguito nove operazioni e poi sono stato trasportato a Brescia, dove hanno deciso di amputarmi la gamba sinistra, sotto il ginocchio. Da quel momento è iniziato un lungo travaglio per la riabilitazione e una nuova conoscenza di sé. Mentre l'infermiera di pediatria, Sara Carniel, ha ricevuto la borsa di studio per la tesi accompagnamento dei genitori al lutto per i Natale, il ruolo fondamentale dell'infermiere. Secondo me è un argomento molto importante, in quanto i genitori non devono essere abbandonati a se stessi, ma anzi devono essere accompagnati lungo questo percorso insieme al loro bambino, in modo tale da prepararli e non lasciarli mai soli una volta che il triste evento avverrà. L'importante è non lasciarli soli neanche nel post-evento di lutto. Il convegno è stato anche l'occasione per sottolineare come ci sia sempre bisogno di nuovi volontari.